Siamo vivi che avem l'innamorata, che avem l'innamorata, noi siamo al pì, noi siamo al pì, sempre a servì, sempre a servì, che avem l'innamorata, sempre a servì. Ciao Maria! ...quello che la cittadinanza di Ironago chiede in termini di bisogno, anche solo di possibilità di stare a vivere in questo paese nel modo migliore. Quindi il padre di casa... ...ma perché credono nel loro lavoro che è trasmissione di sapere e soprattutto di valori. E questo è esemplare. Grazie di qui ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze che sono qui. Grazie per essere qui e grazie per il vostro lavoro. Voi rappresentate il futuro e se il futuro ha la vostra faccia, il vostro cuore, il vostro entusiasmo, vuol dire che vivremo in un mondo dove sarà bello vivere. E naturalmente grazie alle famiglie, alle mamme e ai papà che ci hanno permesso di condividere questi momenti... ...da appendere in classe a tutte e due le classi. Perciò vorrei un rappresentante della classe quarta che ritira il certificato. La classe quarta, chi viene dalla classe quarta? Forza Marcia! Forza Marcia! E' un rappresentante della classe quinta. Non è niente, è un piccolo certificato, però testimonia la bravura che hanno avuto i ragazzi nel fare i disegni. Perché pensate che, come diceva la Maria, il 31 gennaio abbiamo parlato di tante cose e loro sono riusciti a esprimere nei disegni tutte le cose che hanno sentito durante questa... Siamo qua che dobbiamo fare un'altra cosa importante. Dobbiamo rendere onore a tutti sulla teti. Stiamo in piedi che facciamo l'onore ai caduti. Mettetevi pure qui davanti, ragazzi. ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per il grandissimo servizio che ci hanno reso questa mattina, ragazzi guardate che è difficile avere la fanfara, però Emilio ha abbandonato questo... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.